Presso il Centro Etnomusicologico d'Abruzzo di Villa Figliani di Pineto è stata presentata questa mattina la manifestazione Iesce Sole, aspettando il rito del solstizio d'estate che arriverà nella notte fra il 20 e il 21 giugno. La manifestazione si terrà presso il Borgo Antico di Mutignano. Le due giornate saranno dedicate appunto ai riti del solstizio d'estate. Sono riti complessi. Abbiamo il Comparagine con Baraffiore, quindi rievocheremo questa antica tradizione del Comparagine. Poi la Guazze di San Giovanni, i visi delle persone verranno accarezzati da mani di giovani ninfe come buon augurio. Poi c'è il Zombalufoco, quindi il salto del fuoco. I ragazzi si presteranno a saltare il fuoco e avrà valore di purificazione. E poi ci sono i gruppi musicali che animeranno i vari momenti. Ci saranno i lupi della maiella, l'usola allavate e il passagallo. Si farà una quadriglia lungo il corso di Mutignano. Ci saranno momenti a ballo, poi ci sono gli espositori di strumenti artigianali. Quindi ecco, un momento proprio dedicato alla tradizione abruzzese.